E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph, e questo è GioKamak in UEscape E siamo tornati, ovviamente con il secondo e ultimo video Detto che ci avete detto che sono solo 10 livelli, quindi sicuramente lo finiremo oggi Esattamente, alcuni di voi si sono accorti che nello scorso episodio eravamo arrivati a livello 7 Perché il livello 6, diciamo, l'abbiamo fatto Però l'avevamo tagliato al video perché non volevamo farvi uscire un video troppo, troppo lungo Allora, c'era sicuramente questa Questa da risolvere Qua, 7 Ma era per o più? Per, per, scusami Per, 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 per Multiplicazione mi sono confusa, ok E poi qua 3 Non so perché ho messo 6, 7 per 1, 7 Scusami Eh, eh, vedi, vedi E ci dava il pesetto Esatto, praticamente il nostro obiettivo in questo primo livello è riuscire a mettere i 3 pesetti qua Per sbloccarci la chiave Quindi dobbiamo trovare il pesetto del rosso e il pesetto del verde Esatto, io neanche mi ricordo più dove sono Ma neanche io Ti dico la verità, cioè proprio io perdo la memoria in due secondi Montiamo il cricket, andiamo sulla macchina, lo utilizziamo E troviamo il pesetto rosso Il blu è 2 Anche se poi Ah sì, è rimasto salvato No, no, lo tiene, lo tiene Sì, lo tiene Perché il blu l'abbiamo trovato qui dentro Ed è 2 Poi dovevi spostare quel cestino sopra C'era un altro numero Vedi il 6, 6, 8 Quindi, eh, pa, 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 ok E la cosa A questo punto ne mancano due La cosa che ci aveva intrippato di più è che qua ovviamente c'è il 2 giallo ed era abbastanza comprensibile Però il verde era proprio quello di livello 6 E all'inizio giustamente non ci eravamo arrivati quindi un pochettino diciamo che ci intrippa, capito? Comunque si apre qua, si prende questo, si torna da questa parte, si mette il pesettino A questo punto si apre questa cosettina e c'è la chiave Quindi si torna qua Molto carino questo livello Si apre ed è fatto Ci avevamo messo una vita, ma è davvero molto carino Nuovo livello, livello 7, pubblicità Allora, livello 7 Abbiamo due stanze perché vedo già la freccia Uh, ma questa è la nostra stanza Sì, sembra una stala di registrazione No, però non registriamo dal pc Però adesso sarebbe bello il green screen per fare le cose strane Allora, cassetta con lucchetto Ok Ci siamo Poi, combinazione E siamo già due cose a trovare Vediamo se c'è altro qua Scrivania Questa combinazione di colori con cassetti è qualcosa di sicuro Nella scrivania Non c'è nulla Perché l'ho potuta girare? Lo puoi aprire o no? No Magari ci vuole qualche attrezzo per aprire la foto E magari c'è scritto qualcosa dietro la foto Ok Ricordiamocelo, è nella scrivania Posso cliccare anche qui Allora, ci sono dei numeri però Prova 48-41 come combinazione 48-41 Sì, proviamo Dai, prima cosa che venissiamo a provare Per iniziare a capire Ok, mi stai piacendo Ok, oggi sono informissima Te lo dico Sì Questo è per i colori lì, giusto? Vuoto, pieno, pieno Vuoto, pieno, pieno Ah, vuoto, pieno, pieno Vuoto, pieno, pieno E quindi? No, non penso che lo possiamo mettere qua Ok, torniamo nell'altra stanza Vuoto Pieno, pieno Vuoto Pieno, pieno No, sono di più, giusto? Eh, sì Ok, niente Sono messi in una posizione di fare È tutto a posto Ok Oh, ma, vabbè Vuoto Pieno, pieno Vuoto, pieno, pieno Eh, però non abbiamo la combinazione Eh, vabbè, ma Allora Io ce l'ho detto già dallo scorso episodio Mi serve un block notice Noi non ce ne ricordiamo sta cosa Adesso appena c'è una pausa io lo prendo Perché ho bisogno di No, no Ce la possiamo No, di fare diversi appunti Nave Nave da pirata serve a qualcosa Oh, che carina Bella Uh, una chiave Dov'è? Ah, l'ho presa? Sì, l'ho presa Non me ne ero neanche accorto Penso di me non ce la faresti mai, guarda Sono d'accordo Allora, chiave Chiave a cosa ci può servire? La chiave Cacciavite Ok Che possiamo provare ad utilizzare per la foto Ma che cacciavite Ah, vabbè Mamma mia Allora, tecnicamente Steph superiore Steph superiore Guarda che le foto delle foto Sì C'è una levetta Tu lo smonti a mano E loro l'hanno pensata a cacciavite Ma no Allora, secondo me Nel pc non la puoi mettere? Mi sembra No, il pc non me la fa cliccare Quindi io pensavo che fosse per qua E invece no I colori forse di quei cubi? Del pavimento? No, dei cubi dell'altra stanza Giallo, verde, vuoto, giallo Blu No, è impossibile Allora, io ricordo una riga e tu l'altra Io ricordo quella di sotto Eh, grazie a cavolo Allora, giallo, verde, vuoto, giallo Ok, vai, 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 vai Ci sono, ci sono Tu, memorizzati l'altra Blu Rosso Rosso Vuoto Vuoto No, era vuoto anche la No Non mi ricordo No, io Allora, pensavo di aver sbagliato anche il mio No, giallo, verde Allora Ok, no, era giusto Allora Screenshot Un attimo Vai di così proprio Blu Vuoto Vuoto Rosso No, è vuoto Ah, me lo ricordo ormai Vuoto È andata però, cosa c'è? Ok Ok È una Abbiamo usato il cacciavite però per arrivare a questa Con questa apriamo il lucchetto della cassettina Lo scassiniamo proprio di capire Spam La foto camera la scheda, metti la scheda Tata Ok, adesso No, aspetta Non me la sta mettendo Ok, non si può fare quindi Clicca lì, clicca la scheda adesso No, la scheda e cerca di inserirla da qualche parte Ecco Ecco qua Ecco qua L'intelligenza nostra è davvero incredibile ogni tanto Abbiamo solo quattro numeri Quindi dobbiamo ricordare i numeri dei vari colori Non ci credo Abbiamo un cellulare Sfruttiamolo da bravi No, ce la possiamo fare Il giallo Quattro Poi Il blu Tre Il rosso Uno Quindi tre Uno E infine ci manca il nero Che è sei Oh, è davvero ingegnoso sto livello Davvero ingegnoso Sì, davvero difficile Ci ha messo proprio in difficoltà Sinceramente è la prima volta che ci mette davvero davvero in difficoltà Uno Due E Ce l'abbiamo Fatta Livello otto Dai, concentrati Pubblicità Concentrati Ce la dobbiamo fare Due stanze Due stanze Ormai sono tutti a due stanze Sì, ormai Allora Qui noto qualcosa Tre stanze Benissimo Eh vabbè Le belle notizie non finiscono mai Ho preso una maniglia Abbiamo sgobbatto una maniglia Perfetto Ok, combinazione Non lo sappiamo Combinazione che non sappiamo Quadro Sette, cinque, due, otto E Stefano trova subito gli lezzi Sette, cinque Ma stai ubriaco? Sì Era troppo in enfasi Sette, cinque, due, otto Ok Quelli la maniglia Maniglia, bravissimi Telefono Scarico Ah, forse scarico il tablet Una maschera molto inquietante E un videoregistratore Che Non ha nulla di strano Non capisco Però servirà qualcosa Dovremmo inserire una cassetta di sicuro Presa per attaccare A caricare questo Secondo me Poi Televisione Spenta È tutto spento qua però eh Sì Sì, sì Ma perché qua metteremo la cassetta Che ci farà vedere qualcosa di strano Certo, certo, certo Il vaso niente Questa stanza mi avevi chiesto la lampada nulla Quindi ci resta la stanza di mezzo Ah ok, la stanza principale Dai, 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 dai Esplora subito Cestino CD da inserire Più che cassetta Combinazione Oh mamma mia 6, 6, 5, 2, 8 Eh ma sono due Eh lo so ma inizia a metterla Ma no Poi secondo me ce la toglie Ma te la dimentichi Ma tanto ce la toglie Poi telecomando per accendere la televisione Ok ci siamo Stiamo andando bene Stiamo andando bene Sì Ho preso il caricatore Caricabatterie Caricabatterie Io ne avevo visto C'è proprio cliccato Neanch'io c'è cliccato a casaccio Lì sotto niente Quindi Andiamo qua Facciamo questo, sì Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così 3, 4, 6, 2 Che è la seconda, giusto? O è per il tablet Ah non lo so Proviamo 3 Non succede nulla Siccome ci sta prendendo in giro sto tablet Io te lo dico Sarà inutile Eh sì Sì Proviamo a mettere il cd No nell'altro secondo me Dove? Eh va indietro? Dove dì che c'è quest'altro registratore? Questo secondo me è per il cd 3, 4, 6, 2 Prova? Sì ma mi stanno facendo impazzire con i codici Era 3, 4, 6, 2 Io non mi ricordo più 3, 4 Qual era l'altro codice che abbiamo visto? Non lo ricordo più È Dietro un quadro Dietro un quadro Quale quadro però? Quello del cavallo Dove c'era il tablet Quello? 7, 5, 2, 8 Eh vedi è complicato Mi sta lavorando Allora 7 È complicato 2, 8 Sì Ma perché non si è vero? La password nel lettore di vd Perché magari devi guardare cose solo tu Quindi non vuoi che le guardino gli altri Ok Bellissimi canguri, pinguini, gatti fantastici Canguri Sono numeri 4 3, 4, 6 3 2 4, 6, 3, 2 4, 6, 3, 2 4, 6, 3, 2 Non ce ne facciamo nulla Tablet 4, 6, 3, 2 Sì Ok Adesso chiacci Tondo, stella Allora Perché ti amo giocare a sto gioco? Non voglio fare il detective nella mia vita Io prendo, me ne vado È stato bello Ma non finiremo mai sto gioco Tondo, stella, triangolo, quadrato Stella Stella Triangolo È quadrato È quadrato Ok Questo è andato Se lo togliamo ci toglie No, non credo Di solito rimane sempre Prova Sì, vedi, rimane Ok Allora cerchiamo il codice C'è uno di quelli 3, 4, 6, 2 È finito Ah giusto Io non ci sto più capendo niente Ho notato 3, 4, 3, 2, 6, 2 Dimmi che è finito 2 Aperto Pa, 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 pi, pu Finito Pobrecità Ne mancano Che stanchezza Sono davvero complicati Davvero davvero complicati Ne mancano solo due Allora Ce la facciamo Allora ce la dobbiamo fare Stanze ne abbiamo due Non sono tre Ok Sì, credo Suppongo Allora Fiori Inutili Niente Vasi Sposta qualcuno Quegli altri No Quattro Quattro rosso Dimentichiamocelo subito Quattro rosso Preferisco dimenticare Lampadina viola Lampadina viola Sopra Chiave Mamma mia quante cose trova Stef Eh ma anche prima è andato bene Poi ci siamo intrippati malissimo Quindi non cantare vittoria Altro numero Ok Sappiamo già dove trovarne due Ok Ok questo è bello Vai Allora Io non capisco neanche cosa dovrebbe essere Però vai Cerca di fare È una bellissima Cosa È un dipinto È un dipinto No credo È un vaso È un vaso È bellissimo È un vaso È un vaso Ci siamo Ok Notizia Ah ok Spostare una tessera Meno male che ci ha provato Quindi tre tessere Una verde Una rossa E una blu Vabbè inizia a mettere la verde Vai Quindi la chiave Non servirà Eh ma questo che accidenti è? No no Giusto per dire Giusto per No no Ok Steph non è interessata a queste cose Ok Sono d'accordo Otto C'è l'otto gigante arancione lì Caro mio Che ogni tanto non vediamo più le cose Ok Allora abbiamo avuto una sequenza di numeri colorati Che io ancora non ho capito a cosa ci possono servire Lavoriamo a questa stanza Esatto Frughiamo un po' questa stanza Allora qua nulla Qui nulla Qui nulla Eh Batteria Nulla Chitarra Chitarra Mamma mia il mio cervello si sta Mamma mia Distruggendo Ok Questa è la sequenza delle tessere Delle tessere Ti ricordi che ne avevano due 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 Ricordiamoci che sta lì No 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 quella foto Ok Dai che cosa ci devi tornare Vai Facciamo una bella foto così ce la ricordiamo Ciiiis Ok vai Vai Poi Se no guarda non capiamo più nulla qui Qua sotto Ecco i numeri colorati I numeri che stavamo cercando ma non li abbiamo ancora trovati tutti giusto? Eh no mi sa che ce ne manca uno Ok sì Poi Qua ci sarà qualcosa da qualche parte C'è qualcosa per forza I piatti I piatti I colori dei piatti Ok bravissima Sono cinque colori Che forse Qui 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 Però qua serve anche premuto o non premuto Quindi ci serve anche un'altra Mamma mia Vabbè mamma E qui? Guarda Hai visto? La lampadina Lampadina Tu mettila Ok bravi Bravi Ah ok E il cosa? Allora X tondo X Tondo X Tondo X Tondo X Io riesco a farlo Ok X Tondo X Tondo I No Tondo X Tondo X No era Era uguale al primo Così Così E adesso mettiamo i colori Ok Mettiamo i colori che sono i colori dei piatti Per forza Celeste Rosa, verde, nero, giallo Tutti diversi Allora X Sì Tondo X Tondo X Tondo X Eh cos'è 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 Tessera blu Oh mamma mia Che fatica Incredibile Stanno diventando davvero complicati Incredibile Allora Allora Quindi abbiamo la seconda tessera Che voglio andare a mettere Che è qui Perfetto Adesso Noi abbiamo una chiave Ok Che non abbiamo trovato nulla Dove Cioè Per utilizzare questa chiave Comunque l'altro numero l'ho capito Vai Secondo me è il 9 lì sopra 9 verde 9 verde 3 blu Ok Poi era 9 verde 3 blu 4 rosso E 8 arancione Te li ricordi? No Proviamo 9 verde 3 blu 8 8 arancione 4 rosso Ok Yes Cacciavite Cacciavite Andiamo qua Saliamo qui Togliamo le vitine C'è l'ultima tessera sicuro Esatto Esatto Tessera Allora devi bloccar Con la chiave Con la chiave Giusto sì Ecco dove si arriva la chiave Perfetto Perfetto Adesso noi abbiamo le tre tessere Abbiamo la foto Quindi aspetta Abbiamo la foto Ce la posso fare E ce l'abbiamo fatta Sì mamma mia Allora Pronto? Sì Allora bianco C'è il bianco? Sì Blu Ok Rosso Ok Bianco Ok Giallo Ok E verde Grazie Meno uno Andiamo Ecco perché mi preoccupa Che è? Scusate Non lo so Non lo so Allora Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Cinque Più numeri da cliccare che cambiano colori Perfetto Bottoni da cliccare Bottoni Trappano Così Apri e trevi un trappano Punta del trappano Dentro una tazzina Scontatissimo Così perché tutti i giorni tu ti giri il caffè con la punta del trappano Scusate Certo Matita verde Qui abbiamo qualcosa che sembra che sia da tipo infilare da mettere Aspetta Questa è una foto di qua Dove bucare Esatto Sì Fammi vedere Vai Sì Sì Ok Blu blu Giallo giallo verde verde Questo è semplice Che va qui Blu 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 Ah perché clicco tutte queste volte Ecco quella cosa tonda da infilare Vai Infiliamo Siamo grandissimi vai E non si infila Come no No Prova buca No sì È giusto Era ovvio Ne manca una Chiaramente Sì Allora la scala l'hai guardata con tutti quei ripiani che ha No Quindi Allora un foglio No per ora no Più in alto nella scala nulla Qua però c'è una chiave Una chiave Col trappano sempre Spacchi tutto No No non mi fai spacca tutto No Ok grazie Che cos'è esattamente Non capisco Sembra una teca Che hai trovato? Dove l'hai trovato? Non lo so Sotto il tavolo? Sì Eh sì Ok tre numeri Tre numeri che ci servono Ok Ascolta un attimo Sì Che ci ho pensato prima E questa cosa mi sta continuando Capito A trappanare il cervello Perché stai facendo quella faccia? Perché Non ce la faccio più Ok ok Il foglio secondo me lo dobbiamo utilizzare qua Prova a metterlo da qualche parte Io ne sono quasi sicura Perché altrimenti non ha senso Questo foglio non serve a nulla Ecco vedi È la matita per far scendere la La chiave Per prenderla così Così vedi Ok Ok Va bene La chiave apre questo Apre quello Sì vai Binoccoli Ah binoccoli per guardare Binoccoli per guardare E quindi qua vedremo dei numeri 12 12 8 8 5 12 8 5 12 8 5 8 5 12 Ma abbiamo finito? 8 credo di sì Sì vedi che è quello Ok Ok Finito Ok Ok Yeah Vai Finito Bravissimi Bravissimi Mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto molto divertente Gli ultimi livelli diventano davvero davvero complicati Ne è venuta mal di testa Sì 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 Però mi piace un sacco questa tipologia di gioco Mi piace davvero un sacco Davvero bellissima Vi lasciamo un sondaggio durante il video Quindi la troverete con la I da qualche parte durante il video Dove vi chiederemo se vorreste vedere altri giochi del genere Perché ne abbiamo trovato diversi davvero interessanti Speriamo che vi sia piaciuto questa mini mini serie Dato che sono solo due video Questi due video Ci siamo davvero divertiti un sacco Due video Mini serie mini serie Mini video mini 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 serie Ok Ok La mini serie da 4 La mini mini serie da 2 Giusto Chiaro? Ok Dicevo Speriamo che vi sia piaciuto questo video Speriamo che vi sia piaciuto questa mini mini serie E speriamo che vorrete vedere altri video di questa tipologia di giochi Perché è super divertente Ci fermiamo così Beh ragazzi di lasciare se ci è uscito Sciettaci un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao